ok nonno che dici come trattate a te questo anno buon? bene bene ok manda questa vostra tu hai qualcosa per dire a tutti quanti la famiglia e te lì? e che ha quel buon anno, che ha tu ok grazie fa vedere tutti quanti i fotografi che ti ha fatto? io questo ma di chi? no no non 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 la gente ha vedi i punti le fotografi hanno i punti alla carcia lì una bella fotografia che ti ha dato lì? e che dici l'anno? e che dici l'anno? e che dici l'anno? si che dico è che cosa devo dire saluti a tutti e buon anno buon anno buon anno che dici l'anno? che dici l'anno? happy new year everybody happy new year happy jason open one of his gifts say ciao happy new year happy new year there you go good boy buon anno a tutti ecco 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 ciau diciamo chiamo ciao a tutti buon anno wow c'era che fosse meglio del loro ecco ecco perché possiamo vogliono più no dieci Grazie.